Gentili clienti, installatore e manutentore, oggi Depurcam Tecnologie per l'acqua vi propone una soluzione per adempere la DPR 59 del 2009. Cosa vi obbliga a fare questa normativa? Vi obbliga che in caso di sostituzione di un generatore di calore o installazione di uno nuovo, di interporre un filtro e un dosatore di polifosfato sulla produzione dell'acqua calda sanitaria della vostra caldaia per poter proteggere il rendimento dell'impianto. Normalmente nei tradizionali dosatori di polifosfato, a liquido o a polvere che siano, viene semplicemente fatto un dosaggio di antincrostante, non viene fatta la filtrazione. Quindi installare un tradizionale sistema di dosaggio di antincrostante non adempia completamente la normativa. A questo punto Depurcam ha pensato un unico prodotto che possa fare sia da filtro che da dosatore, tant'è che l'abbiamo chiamato Fildos. Questo prodotto permette la soluzione di entrambi i problemi grazie alla sua cartuccia brevettata, che non è altro che un involucro in plastica con una rete filtrante che permette di filtrare l'acqua al suo passaggio e al suo interno ha cinque microsfere di polifosfato in cristallo pressati che permettono che con il passaggio dell'acqua sciogliendosi lentamente di rilasciare il prodotto antincrostante nell'acqua fredda che alimenterà lo scambiatore al bollitore. La sostituzione, quindi la ricarica del dosatore di polifosfato sarà semplicissima perché basta sostituire completamente la cartuccia filtrante con un semplice innesto rapido. Inoltre è agevolata l'installazione del prodotto mediante il raccordo filettato femmina dalla parte superiore e il raccordo filettato femmina sempre da mezzo nella parte amore, quindi con un raccordo a squadra a 90 gradi diventa molto semplice interporlo nei sottocaldari.